quest'anno l'uomo ha veramente osato troppo andandoli a documentare nessuno aveva mai voluto avere a che fare con loro non voglio sapere niente lasci stare ma aspetti aspetti dove corre dove corre l'istituto cinematografico la fornace è orgoglioso di presentarvi l'ultimo capolavoro di tom sees eono bandana i vergini delle rocce in programmazione in tutte le sale il capillesi e presto anche in cassetta vhs su richiesta anche in dvd hd la virginità non è per sempre